Allora, ciao ragazzi, l'hombrina ha detto oggi in questa location che mi piace molto non ho né cuffie colorate, né studi, né scrivanie, eccetera, eccetera mi piace, molto, molto, molto spartana, mi piace questa location farò un po' di video da questa location Allora, crollo dei mercati, vedo sui mercati finanziari un'aria un po' ottimistica nel senso che arriviamo da un anno di rialzi sul mercato americano sia sul Standard & Poor's che sul discorso del Nasdaq abbiamo di nuovo fatto i massimi con una crescita addirittura del Nasdaq del 50% fatta però da pochi titoli non siamo in una fase di bolla assurda come è successo nel 2000, scusate quando è scoppiata poi la bolla della dot.com i mercati poi sono venuti giù per tre anni ma lì avevamo raggiunto dei livelli di follia ancora più alti probabilmente di questi come rapporto utili e valori delle azioni sul mercato italiano non abbiamo siamo una delle poche borse probabilmente perché l'America è andata a fare i massimi la Germania è andata a fare i massimi noi siamo ancora così attorno al Miltel attorno ai 30-31 o qualcosa del genere i massimi sono stati 44.000 però devo dire che hanno comunque rotto diciamo negli ultimi dieci anni hanno rotto qualche resistenza quindi può darsi che poi il Miltel vada poi in futuro a fare anche i massimi però se io guardo la condizione tecnica del mercato tedesco e dal 2008 vado a tirare una trend line sulle creste alte siamo in un periodo, diciamo siamo in una situazione di molta resistenza l'America ha corso tanto non so se ha la forza di pompare visto comunque che si è scontrata diciamo con la resistenza del doppio massimo è lì che gibilla e se non lo sfonda con forza dopo un po' se non ha forza tende poi a scendere e magari potrebbe andare di nuovo a fare un doppio minimo sui minimi del 2021 sui minimi del 2021 e quindi per cui sono su una situazione quest'anno molto non vedo i mercati 2024 che pomperanno come il 2023 potrebbe arrivare una correzione potrebbe arrivare una correzione quest'anno poi è anche un anno di elezioni in America di solito preelettorale non è che ci siano dei grandi rialzi potrebbe esserci col discorso della recessione in Germania che le borse iniziano a scendere è vero che hanno detto nelle banche centrali che inizieranno a tagliare i tassi però non così presto bisogna vedere se l'infrazione scende, sale eccetera eccetera però mi aspetto mi aspetto quest'anno che potrebbe essere potrebbe uso il condizionale un anno di storno magari non una cosa esagerata non dico che storna al 50% come è successo magari nel 2008 o nel 2001 però in questo momento se avessi delle posizioni aperte porterei a casa diciamo il guadagno poi sul discorso dei bitcoin io non sono esperto di bitcoin vi ho solo detto quando stavo a 60.000 che era in piena bolla di stare attenta vi avevo detto che avrebbe potuto perdere l'80% e così l'ha fatto ma perché eravamo arrivati in una bolla pazzesca non siamo in una bolla esagerata a livello borsistico però siamo a livello di scontrarsi con delle resistenze bisognerà vedere un po' il mese di febbraio-marzo generalmente febbraio-fine gennaio-febbraio sono sempre mesi un pochettino di incertezza dove generalmente i mercati perdono un po' per poi pompare verso marzo-aprile poi c'è il famoso selling bag away di maggio che però non è vero non funziona sempre così e per poi stornare potrebbero iniziare dei ribassi quindi dal mio punto di vista io starei attenti potrebbero partire anche già a breve potrebbero già a breve e anche diciamo fisiologico e sano uno storno che potrebbe essere anche magari attorno al 10-15% magari anche all'8% non lo so però in questo momento io se dovessi investire qualcosa a livello borsistico a livello anche per andare long in questo momento starei molto accorto perché i titoli sono comunque tutti già pompati era forse meglio entrare ai tempi nel 2022 quando avevamo toccato il minimo oggi molti titoli hanno corso sono tornati di nuovo a fare i massimi alcuni anche più dei massimi e sono belli pompati anzi probabilmente aprirei più delle posizioni short che neanche long in questo momento sui mercati finanziari secondo me a breve potrebbe arrivare uno storno magari già dalle prossime settimane con ovviamente dei rimbalzi poi se dovesse invece succedere che dopo un periodo di incertezza che è iniziato da praticamente inizio anno dal primo di gennaio se dovesse invece succedere che i massimi il doppio massimo su Nasdaq su Standard & Poor anche sull'Italia viene rotto con decisione ma deve essere rotto con decisione ma deve essere una falsa rottura allora se a questo punto spacca in maniera forte e sale allora potrebbero esserci altri altri 10-15 magari 20% di alzo dopo che ha rotto generalmente va a ritestare dal basso dall'alto lo va a ritestare la trend line la trend diciamo la trend line la linea di resistenza e poi dopo ripartire cioè se lo spacca forte che va giù lo ritocca e poi riparte quindi bisogna vedere se se lo spacca ma se non riesce a spaccare se non lo riesce a spaccare dopo un po' tendenzialmente inizia a scendere cioè non può stare lì tanto a stare laterale certo se sta lì laterale inizia a caricarsi si carica di energia per poter poi esplodere o esplode in basso o esplode in alto non ci sono balle quindi più tempo sta lì più dopo quando spacca lo fa in maniera decisa forte e magari anche breve vedremo se spaccherà a rialzo o a ribasso tendenzialmente sarei forse più per dei ribassi che non per l'alto perché ha già corso un bel po' staremo a vedere a rialzo o a ribasso o a ribasso